che bella l'albania albania albania questo fa parte del piccolo reportage va il piccolo reportage di cristiano ed eva in albania questo è il lungomare come va l'albania it's wonderful bella bella vacanza vero eva diciamo che qui è molto simile a riccione palermo questa è la montagna qui c'è la sabbia e qui c'è il mare e qui c'è freud questo è un hamburger friccissimo ci sono le giostre c'è il culetto di eva ci sono le altre montagne adesso vi portiamo a vedere la strada principale di shenzhen eva facci la cicerone di dove eva di dove guardate che belle strutture questa è molto nuova c'è la terrazza panoramica abbiamo tutto ci abbiamo eva come fa la mucca e la pecora eva come fa devo dire che gli albanesi si contraddistinguono vedi l'amore mio ecco gli albanesi si contraddistinguono per due cose l'ospitalità l'ospitalità no non è vero molto simile anzi molto simile alla zona di palermo di napoli questa è la montagna e siamo proprio di fronte al meridian qua questi sono i pomodori che porteremo ad angelo ecco i pomodori che porteremo a papà ora andiamo dove? i pomodori i pomodori a meridian e l'ho detto siamo proprio di fronte a meridian vediamo i pomodori? si i pomodori? angelo guarda i pomodori i pomodori? i pomodori? i pomodori guarda che per i pomodori guarda i pomodori i pomodori giganti ora fai vedere vicino alla tua mano un pomodoro vicino alla tua faccia questi presto li mangerai ecco perché si dice che gli albanesi hanno una faccia il pomodoro è schiacciato questa è la strada principale di Shenzhen montagna e noi andiamo a mangiare dentro al meridiano e va prima che entriamo saluta della linea allo studio ciao